Ciao a tutti, oggi da una vostra richiesta vediamo cosa sono le micorrize e perché sono così importanti in natura. Partiamo dal dire che il termine micorrize deriva dal greco mikos, che significa fungo, e risa, cioè radice. Da qui possiamo dire che le micorrize sono associazioni simbiotiche tra funghi del suolo e radici delle piante. La simbiosi, che è la comunicazione e lo possiamo chiamare l'internet delle piante, avviene nell'apparato radicale del vegetale e comporta, come vedremo in seguito, un reciproco scambio di vantaggi tra i due organismi appunto coinvolti. Si situano precisamente nella rizosfera, ovvero la zona del terreno toccata dalle radici della pianta, fino a quelle più piccole, quasi invisibili. Essi si trovano già in natura, soprattutto nei luoghi meno contaminati e lavorati dall'uomo, quindi nei boschi e nelle praterie, nei luoghi dove gli apparati radicali sono molto fitti e molto presenti e ci sono sempre, in ogni stagione, anche se vivi o morti, le micorrize ci saranno in molta più in abbondanza rispetto a un campo coltivato con un metodo di agricoltura convenzionale. Si possono trovare anche in vendita sotto forma di spore, dormienti, da diluire poi in acqua al momento dell'irrigazione del nostro orto, del nostro giardino, oppure di qualche talea. Io sconsiglio di acquistarle con la mentalità che siano un concime, che poi al fine di permettere di produrre di più. Certo, poi esse aiutano le piante nei momenti di stress, aggiungendo, come potrete vedere, per esempio, mettendole all'interno di un vaso, molta quantità di massa radicale, quindi quando le andremo a dare le radici aumenteranno di gran lunga rispetto a una pianta normale, però io vi consiglio di acquistarle una volta e poi in seguito esse poi si andranno a riprodurre e prosperare da sole, anche perché vengono prodotte le più economiche da grandi aziende non italiane, quindi pensateci un po' su prima di acquistarle. Compratele però se avete un suolo degradato, oppure perché avete voglia di spendere un po' di soldi, oppure testarle per fare vari esperimenti. Bene, tutti però dovrete seguire questi passi per riprodurle e mantenerle all'interno del suolo nel corso degli anni, perché al momento in cui le andrete a mettere basterà qualche piccolo errore che esse andranno a diminuire drasticamente di numero, cioè non è che si possono contare 1, 2, 3 micorrize, però in quantità e in presenza del suolo andranno a diminuire. Alla fine del video trovate gli step, io ho un pochino i passi per utilizzare quelle che andrete ad acquistare online da qualche agraria. Vi consiglio anche di andarle a comprare se le volete acquistare da aziende italiane che le producono sul suolo italiano. Il primo passo che ripeterò all'infinito è di tenere coperto il suolo con la parcenatura. In questo modo le radici delle piante avranno meno stress causato da troppo sole, troppa pioggia, troppo vento, e quindi le micorrize stando nella rizosfera, quindi nelle radici, potranno crescere e prodursi al meglio. In seguito saranno poi le micorrize a compensare gli stress delle piante, in cui andranno appunto a creare la simbiosi. Per mantenerle sarà necessario applicare le stesse metodologie che si applicano per aumentare la fertilità sul suolo, quindi appunto coprire il suolo, aggiungere materia organica, non lavorarlo pesantemente, e quindi utilizzare solo forca vanga e grelinette, e cercare appunto di mantenere una grande percentuale di amidità nel suolo. Ho fatto un video a riguardo, sono argomenti molto delicati da vedere nel dettaglio, ve lo lascio qua a destra in descrizione, poi nella descrizione troverete anche tutti i video allegati della serie che sto andando a creare, in cui ci sta anche questo video che si chiama Agricoltura Cosciente. Nel primo commento trovate appunto il preciso trailer. Un'importantissima azione da compiere, che nessuno vi dice o consiglia, è di gestire le radici delle piante una volta fuori produzione, che poi alla fine di solito vengono estirpate per migliorare la lavorazione, oppure vengono sminuzzate. Tante persone una volta che si ha un insalato o un pomodoro per liberare il suolo da più o meno la maggior parte di ostacoli, estirpano via le radici di esse dal suolo. Ecco, beh, non si fa. Le microrrize stando nella risosfera, quindi nella zona radicale del vegetale, dal momento in cui le togliete dal suolo, le proprio strappate, quindi da un luogo protetto, e le mettete all'aria e al sole, esse andranno a morire. Estirpandole le toglieremo appunto dal loro luogo di nascita, portandoli in un luogo dove andranno a morire inevitabilmente. Quindi tutte le tipologie di radici, escludendo la maledetta gramigna o le piante infestanti che si propagano attraverso le radici, attraverso propagazione radicale, andranno lasciate tutte le radici nel suolo. In questo modo esse riusciranno a spostarsi e a conservarsi e a riprodursi in altri apparati radicali viventi o a prosperare in attesa di nuove piante da conquistare, messo tra virgolette, ed aiutare appunto a riuscire a risolvere tutti gli stress possibili. Naturalmente esse andranno ad aiutare anche tutti i processi di decomposizione di tutti i materiali organici che noi andremo ad aggiungere al nostro suolo. Quindi anche lì saranno essenziali per la fertilità del nostro suolo, che poi essa sarà essenziale per la fertilità della terra e per tutte le cose belle che accadono in natura. Quindi da qui deduciamo che lavorare il suolo in modo pesante, utilizzando macchinari, andrà ad ucciderle, sempre messo tra virgolette, e quindi a diminuire drasticamente tutti i processi simbiotici essenziali per una corretta viva del suolo in relazione con le piante, che siano piante coltivate, che siano alberi o che siano anche normalissime erbe di un pascolo. Dovrete lavorare il suolo con la forca vanga o con la grellinette, che è una forca vanga più denti e molto larga, all'incirca 75 cm, adatta appunto per prode lunghe e abbastanza strette, per le culture biointensive. Ho fatto anche un video sui libri, su varie tecniche di agricoltura molto utilizzate, secondo me molto utili, ve lo lascio qua a destra in descrizione. Quindi andrete a lavorare il suolo con la forca vanga e con la grellinette, senza rovesciare i livelli del suolo, senza rovesciare le stratificazioni del suolo. Quindi senza mettere la parte superficiale del suolo in profondità e viceversa. Andando a rovesciare questi livelli del suolo, andremo a mettere gli organismi e i microrganismi, tra cui anche le micorrize, che necessitano di ossigeno, per esempio certi animali, non i lombrichi perché anche essi vanno in molta profondità, ma certi batteri che necessitano di ossigeno, andando a metterli in profondità, quindi mettendoli in un ambiente e non consono alla loro crescita e alla loro riproduzione, andremo a bloccare tutti i processi della loro riproduzione e della loro crescita. E quindi anche viceversa quelli che non hanno bisogno di luce e nemmeno di ossigeno, se li andremo a mettere in superficie, essi andranno a morire e a deperire. Quindi la fertilità del suolo andrà compromessa. Con la forca vanga infatti andremo a areare minimamente il terreno, permettendo di mantenere esso più morbido e adatto e facile a trapianti veloci dei nostri ortaggi. Alcune tecniche agricole non lo lavorano nemmeno con la forca vanga, però vi consiglio di sperimentare qual è la vostra più adatta al vostro suolo e quale decidete di utilizzare. Se avete intenzione di acquistarle, le troverete sotto forma di polvere in varie quantità, a differenti anche prezzi e a differenti luoghi di provenienza. Starà lì, cioè starà a voi, scegliere quale acquistare. In ogni confezione sarà indicata poi la dose giusta da diluire nell'acqua. Quindi velocemente, diciamolo, dovrete sciogliere in acqua che andrete a dare alle piante interessate. Anche nel semenzaio va bene, ma attenzione, nel momento che le piante hanno raggiunto per lo sviluppo nel quale hanno almeno 5-6 foglie vere, quelle che vengono dopo le cotille edoni, perché sono funghi queste microrizze e darle durante la germinazione o durante l'uscita delle cotille edoni e delle prime foglie vere, potrebbe avere questo riscontri ed effetti forse negativi, soprattutto con tanta umidità nell'aria primaverile. Naturalmente non è un concime e quindi non è naturale darla a ogni innaffiatura. Questa aggiunta ai microrizze sarà da fare a piccoli cicli intelligenti. Potrete andare a vedere schede tecniche del prodotto e quindi vi potrete regolare. Comunque non è un concime, ve lo ripeto. Vi chiedo naturalmente un bel like, un commento nel quale scrivete se vi è piaciuto il video di oggi e dove mi consigliate argomenti da portare nei prossimi video sul canale di Riccorto. Mi spiace che le immagini non sono state delle migliori perché non se ne trovano tante belle in internet, però vi chiedo tanto di consigliarmi argomenti da portare che realmente vi interessano in modo da scoprire anche io personalmente nuove cose e fare un favore a voi per scoprire nuove tecniche agricole, nuovi piccoli dettagli riguardanti la natura e l'orticoltura e io alla fine vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona estate e ciao!